Ora intanto quello che è successo in Inghilterra sono vere tutte le cose che lei ha prima annunciato, è vero che l'Inghilterra ha da sempre rapporti commerciali, economici e anche culturali con l'India e quindi è evidente che ha importato prima di altri questa variante, tanto è vero che è disseminata proprio nei quartieri di Londra in cui c'è un'elevata prevalenza di questa etnia ed è anche vero altrettanto che probabilmente il fatto di avere procrastinato molto la seconda dose come hanno fatto soprattutto in una prima fase certamente non ha aiutato una variante che sappiamo essere coperta molto bene già da una dose ma certamente meglio da due dosi di vaccino, quindi più le avvicini più in qualche modo alzi quel muro contro la variante quindi quello che è successo in Inghilterra siamo destinati a che succeda anche nel nostro paese, è soltanto una questione di tempo quindi a prescindere dal fatto che gli italiani vadano o meno in vacanza, viaggino o meno ad agosto avremo verosimilmente nel nostro paese la variante delta che sarà diventata predominante. Già oggi io le posso dire quello che è il dato degli ultimi 4 ricoveri non vaccinati nel mio reparto avvenuti nelle ultime 48 ore sono 4 varianti delta quindi ormai la variante delta è credo predominante, i dati degli istituti superiore di sanità dicono che più o meno siamo intorno al 20-22% quindi diciamo 1 su 4, 1 su 5 dei nuovi casi sono da variante delta. Il che vuol dire che cosa si fa per il turismo? Io credo che avremmo dovuto non lasciare ai francesi la prima genitura del Green Pass ma avremmo dovuto farlo noi, ci è mancato coraggio purtroppo ovvero perché non dire il Green Pass, oggi si dice il Green Pass alla Macron invece potevamo tranquillamente dire Green Pass dell'Italiano. Vedo Antonio Cascio qua e con Antonio abbiamo provato a fare un protocollo ben 4 mesi fa che però in Italia nessuno ha voluto utilizzare per riaprire per esempio le discoteche o comunque ambienti diciamo dove c'è un affollamento quindi fondamentalmente si interfaccia molto bene con le vacanze e abbiamo detto usiamo il Green Pass fondamentalmente quindi o vaccinato oppure una pregressa infezione con anticorpi oppure un tampone negativo nelle precedenti 36-48 ore. Io credo che il Green Pass sia lo strumento per tornare rapidamente a una vita normale. Io credo molto nella vaccinazione soprattutto, prova ne è che le do un dato che uscirà stasera dalla cabina di regia Ligure sul Covid. Noi da maggio ad oggi al San Martino di Genova non abbiamo ricoverato neanche un Covid vaccinato con due dosi quindi io credo al vaccino, ci credo fortemente e credo che se vogliamo tornare a viaggiare, se vogliamo tornare a vivere la gente si deve vaccinare e quindi ogni strumento è valido per incentivare la vaccinazione. Quindi mi piace molto quello che ha fatto Macron, fondamentalmente Macron aveva poca gente che si vaccinava o si vaccinavano meno di quello che avevano previsto e quindi ho detto bene se vuoi fare un certo tipo di attività le puoi fare qualora ti vaccini. Credo che dovremmo fare la stessa cosa anche noi. Perché dico questo? Perché ieri in Italia prime dosi su 600.000 vaccinati 94.000, 95.000. Il che vuol dire che se andiamo di questo ritmo per guadagnare un milione di dosi di vaccino che prima guadagnavamo in due giorni ce ne mettiamo 10. Il che vuol dire che a crescere con le percentuali, a arrivare a quell'80% che secondo me oggi è un obiettivo quasi minimo per il prossimo ottobre per equetare, dobbiamo incentivare di più la gente a vaccinarsi e credo che il Green Pass possa essere non uno strumento liberticida come qualcuno dice ma uno strumento di incentivazione alla vaccinazione. Più liberticide delle misure che abbiamo vissuto un anno, un anno e mezzo fa credo che non ce ne possa essere in quel momento probabilmente non potevamo farne a meno ma oggi la libertà di viaggiare è anche data secondo me dal sottoporsi alla vaccinazione o ai tamponi che però non, attenzione, potrebbero non essere completamente sicuri. Questo lo dobbiamo dire soprattutto per il discorso della variante Delta e soprattutto per alcuni tamponi rapidi. Professor Bassetti, le faccio ancora due domande così anche al professor Guerra e al professor Cascia. Lei ha escluso l'utilità di una terza dose praticamente dicendo che giustamente per adesso non abbiamo dati scientifici che vada a valorizzare l'utilità di una terza dose, però siccome le aziende farmacentiche non è che si muovono mai a caso, siccome Pfizer ha fatto la domanda all'FDA per la terza dose e siccome più o meno si valga intorno ai 9 mesi la copertura del vaccino, pensa che per esempio per gli operatori sanitari o per le popolazioni più a rischio non sia magari utile una terza dose, magari con la variante, anche con la variante Delta, con la mRNA, ci insegnate che è più facile cambiare l'obiettivo target e altre cose verso la fine dell'anno. Allora, tanto mi faccia premettere che le aziende farmaceutiche fanno l'interesse delle aziende farmaceutiche e quindi è evidente che Pfizer va a proporre la terza dose perché terza dose vuol dire praticamente rendere il mondo in un regime di monopolio. Quello che noi dobbiamo fare come medici, come ricercatori, come scienziati è quello di dire serve o non serve la terza dose. Mi pare che FDA ma anche CDC sia stato molto transciante dicendo che la terza dose non serve a un fico secco come vaccinazione di massa. Se invece ragioniamo con una vaccinazione individualizzata, cioè quei soggetti che rispondono meno e ne abbiamo i non responder, cioè fondamentalmente gli immunodepressi, i trapiantati, i leucemici che rappresentano ovviamente fortunatamente una piccolissima parte, si può ragionare di un'eventuale terza dose che dà una maggiore risposta immune e magari copre meglio anche nei confronti delle varianti. Però io oggi se dovessi dire terza dose vaccinale oggi fondamentalmente a ottobre, novembre per chi si è vaccinato a gennaio o febbraio come me e come molti operativi sanitari, no sicuro. Anche perché è tutto da dimostrare che l'immunità, almeno quella generata dei vaccini mRNA duri nove mesi, perché mi pare che i dati siano invece un po' in controtendenza rispetto a questo. Cioè se guardiamo le simulazioni dicono che la durata minima è di 12 mesi, qualcuno addirittura sul vaccino di Moderna, che è poi identico al vaccino di Pfizer, parla di 18-24 mesi. Quindi vediamo, vedremo quando dovremo fare la dose di richiamo, se dovremo farla con i vaccini mRNA. Quindi io credo che la terza dose al momento, parlare di terza dose, sia assolutamente prematuro, al di là del fatto che l'azienda fa i propri interessi, che sono evidentemente quelli commerciali. E noi dobbiamo fare interessi della scienza, che è quella che a oggi non c'è un'evidenza, per fare una terza dose di vaccinazione di massa. Poi, con la dose di richiamo, che sarà la dose annuale, ne riparleremo evidentemente nel 2022. Per ora, tanto iniziamo a fare delle prime e delle seconde dosi, che mi sembra molto più importante, visti i risultati, al momento non ancora completamente soddisfacenti anche della nostra campagna vaccinale. Cioè, io, di avere il 60% di italiani che hanno ricevuto una dose, e quindi verosimilmente tra 20 giorni e due, non sono assolutamente contento. Cioè, se dovessi dire, oggi io, della campagna vaccinale italiana, non sono contento. Cioè, ma non per il povero figliologo, che secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Non sono contento perché io speravo di avere più gente ancora di così vaccinata. Cioè, ci troviamo ad avere il 35% degli italiani che non sono vaccinati, che è tantissimo, che non si sono né prenotati per il vaccino, che non hanno nessuna intenzione di andarsi a vaccinare. Cioè, siamo uno dei paesi che ha la percentuale di no-vax e ni-vax più alta. Così rischiamo molto grosso a ottobre. Attenzione, perché così rischiamo grosso. E lo dice uno di quelli che qualche volta ha avuto anche da questionare con amico Ranieri, con altri, sulla mia visione. Ma attenzione, perché oggi non vaccinarsi vuol dire andare a 100 all'ora contro un muro. Perché questa variante fa male. Guardi, quello che ne posso dire è che la sensazione che io ho oggi è che i sintomi che noi vedevamo in decima, dodicesima giornata, con la variante alfa, ma anche con la variante beta e gamma, oggi li vediamo in quarta, quinta giornata. Cioè, noi vediamo i malati che peggiorano dopo 4-5 giorni con la variante delta. E la variante delta non sta più colpendo la tipologia di soggetti che colpivano le altre varianti, perché trova resistenza nella popolazione anziana e quindi colpisce i giovani. Cioè, noi oggi, la gente che va in ospedale ha 40 anni, cioè non abbiamo più di 70 anni, 80 anni, e finiscono intubati rapidamente come gli altri. Allora, oggi, non sfruttare l'opportunità di vaccinarsi è da... Vabbè, non le dico quello che è, perché userei un'espressione colorita e volgare. Allora...